Sono bastati un paio di minuti a quattro ladri per scassinare la Saracinesca e prelevare l'incasso. Il furto, che avrebbe fruttato almeno 1000 euro, è stato compiuto ai danni dello spaccio a Mendolardi via Manfredi nella notte tra giovedì e venerdì. I quattro si sono mossi con velocità ed esperienza. Con un attrezzo non ancora identificato dalle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad avere ragione della Saracinesca. A quel punto è scattato l'antifurto collegato con i metronotte. I tempi di reazione dall'allarme all'arrivo delle forze dell'ordine sono di circa due minuti e i quattro ladri lo sapevano perfettamente. Nella stessa notte i ladri hanno anche divelto alla Saracinesca del bar del parco, sempre in via Manfredi, riuscendo a impossessarsi della macchinetta cambiamonete e di un videopoker. Il sospetto degli inquirenti è che lo stesso gruppo di scassinatori abbia messo a segno i due colpi. Grazie.